E' tutto pronto per la seconda edizione dello Slalom Città di Macchiagodena. Secondo trofeo Aido Riccardo Martella, rassegna valida come Coppa ACI di terza e quarta categoria. La Kermess si disputerà domenica, sabato scorso intanto, presso il Castello del Centro, c'è stata la presentazione dell'evento coordinato dalla Motor Racing Molise del presidente Donatello Scarabelli. e quindi soddisfatto il primo cittadino Felice Ciccone, entusiasta per la conferenza della Kermess. Credo sia doveroso anche per quest'anno partecipare a queste iniziative e dare risposta ai tanti ragazzi che si sono impegnati per organizzare questo evento anche per l'anno in corso. Noi teniamo molto a questo Slalom perché oltre ad essere una manifestazione di carattere sportivo molto importante perché è uno Slalom di valenza nazionale, per noi rappresenta un momento molto importante perché ci fa parlare di solidarietà, infatti la manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Aido che qui a Macchiagodena significa Riccardo Martella. Ci siamo impegnati fortemente nella realizzazione di questa manifestazione e ringraziamo di cuore tutti i ragazzi dell'associazione che ha organizzato l'evento con la collaborazione appunto dell'Aido di Macchiagodena e con la collaborazione dell'ACI Molise. L'evento partirà domenica mattina e si svilupperà per tutta la giornata di domenica. A fianco all'evento principale che è rappresentato dalla corsa, quest'anno abbiamo voluto organizzare una serie di eventi proprio per dare maggior valenza appunto alla manifestazione che è lo Slalom. Si partirà con un convegno sul castello dove saranno allestite diverse mostre. Ci sarà una mostra fotografica di un nostro concittadino, ci sarà una mostra di pittura, ci sarà una mostra di araldica e tanti altri eventi che ruoteranno intorno a questo Slalom che per noi appunto è l'evento clou dell'anno. Sara De Castro, rappresentante dell'ACI, si è così soffermata sull'evento. Slalom di Macchiagodena che arriva quest'anno alla sua seconda edizione. Questa appremiazione dell'impegno che i ragazzi di Macchiagodena hanno messo lo scorso anno per far sì che questa gara potesse crescere e migliorare nel tempo. Per l'appunto seconda edizione, il percorso totalmente identico a quello dell'anno passato, quasi 4 km di prova speciale con 17 birillate di rallentamento, saranno a disposizione dei concorrenti che domenica mattina, a partire da metà mattinata, concorreranno per l'appunto sulla SP2 Molesana. Più volte campionessa tricolore ed europea, sull'appuntamento, che però non la vedrà al via, si è espressa anche la figlia d'arte Martina Iacampo. Siamo giunti alla seconda edizione, naturalmente nulla poteva farsi se non ci fosse stato il team dell'MRM, naturalmente con l'appoggio del gruppo comunale Aido di Macchiagodena e tutti i ragazzi di Macchiagodena che ci stanno aiutando, compresa la protezione civile. Il grazie più grande va a tutti gli sponsor, tutte le persone che credono in noi e tutte le persone che anche con un minimo contributo ci stanno aiutando, ci stanno dando una mano e credono fortemente in questa manifestazione. Grazie. 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 Grazie.